Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, brevissimo, perché volevo avvertirvi che oggi, venerdì, questa sera, registrerò un video davvero assurdo, qualcosa di mai visto sul mio canale, ma che voi, assolutamente, non vi dovete perdere, quindi state sul pezzo, vi mando l'appuntamento per domenica mattina, attenzione, domenica mattina uscirà il video che registrerò oggi, domenica mattina alle 10.30, mi raccomando ragazzi, ho bisogno di tutto il vostro supporto, dovete fare, girare il video che uscirà, come già detto, domenica alle 10.30, perché è veramente qualcosa di mai visto sul mio canale, è qualcosa a cui tengo molto, qualcosa di diverso appunto, che non ho mai fatto prima, e quindi ci tengo molto, io so che voi siete sempre dalla mia parte, vi mando un saluto, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, noi ci vediamo ad un prossimo video, ma mi raccomando, segnatevelo sul calendario, domenica alle 10.30, nuovo video di Menzo, state sul pezzo, e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!